ciao a tutti eccomi qui con un video acquisti ho fatto questo ordine d'archemian scusate per la luce ma ho iniziato a lavorare quindi sono le sette di sera questa è la luce lì c'è la luce dovuto fare un po così quest'ordine l'ho fatto la scorsa settimana sembra lunedì o martedì e mi è arrivato oggi che martedì i tempi non lo so perché ci sia voluto diciamo così tanto tempo non c'era scritto niente che erano in ferie perché di solito bene o male in due tre giorni arriva comunque ieri mi hanno avvisato che ieri il pacchetto l'avevano inviato e oggi mi è arrivato e ora vi faccio vedere le cosine che ho preso sempre che ce la faccio ad aprire una cosa complicata perché devo riprendere col cellulare perché mi avete detto che dalla fotocamera si sente piano mentre col cellulare ecco spenta la luce col cellulare si sente di più allora vediamo un po non mi ricordo neanche che cosa ho preso ok iniziamo con l'aprire questo giuro che non mi ricordo che cosa ho preso avevo preso un po di charms e ho preso queste chiavi argentate forse così si vedono meglio con questa decorazione e queste sono 20 20 ciondolo charm chiave triskel 10 x 22 mm e 3 ore 60 poi ho preso queste che sono delle perle rondelle mezzo cristallo rosso granato da 6 mm che sono 20 3 ore 10 il totale ovviamente e poi questi qui rosso siam non so quale dei due sia rosso siam e rosso granato adesso non mi ricordo sono sempre ai 20 è tutto bene impalchettato in modo che non si rompa niente queste qui che volevo da mille anni che hanno tutti sono quelle perle a forma perle come si possono chiamare i fiori acrilici a capa a campana satinati sono 15 x 10 mm e sono un pacco da 50 con vari colori e l'ho pagati 4,60 non mi ricordo sinceramente i prezzi non so se questo sia giusto però sono questi però mi sa che mi risulta che li ho pagati di meno non mi ricordo i prezzi non ve li dico adesso molto molto belli poi quanto creo qualcosa vi farò vedere poi ho comprato un po di perle allora intanto avevo preso altri chance delle chiavi perché adoro le chiavi come pendenti questi due sono uguali l'ho preso una colorazione argento e bronzo antico e sono dieci si dieci pezzi dopo non riesco a farvi rivedere sono fatte così dopo magari mi metterò una foto dell'insieme che si da meglio poi anche queste qua sempre in bronzo non vedo niente anche questo è un bel sacchettino poi ah si mi piacciono anche le carte da gioco come quando fuori piove le ne ho prese si charms scala reale 25 x 13 mm sono quattro pezzi e questi me li tengo per me perché mi piacciono tanto poi ho preso questo queste perle che sono 20 di ognuna che sono rondelle sfaccettate effetto gommoso 6 x 8 cm mm 6 cm e sono 20 pezzi le ho presi nella colorazione del viola del fucsia fluo arancione fluo giallo fluo e verde fluo che sono praticamente i colori che sto usando anche per con le super duo quindi magari abbinati insieme vanno bene poi vi farò man mano vedere come li sto utilizzando poi ho preso queste perline arcobaleno a righe da 8 mm e sono un pacchetto mix da 20 pezzi e poi queste 50 perline e poi queste 50 perline aspettate non le trovo è per le acriliche grosse di colori messi da 8 mm e sono 50 pezzi hanno dei colori veramente sbrillucicosi sono molto belle infatti hanno sono colori perlati poi ops questo come omaggio li tiro fuori molto molto carine sono questi fiori che hanno il buco all'interno quindi molto molto carini e sono quattro questo color arancio color mire dai viola rosa e questo rosso arancio e questo è un omaggio il sito da cui ho fatto questi acquisti è questo alchemian www.alchemian.com e niente queste sono le cosine che ho preso adesso tempo permettendo visto che ho iniziato a lavorare cercherò comunque di fare qualcosa di farvelo vedere e vi lascio con una foto finale magari di ogni cosa in modo che il tutto si veda per bene scusatemi per il video ma adesso non posso fare altrimenti a presto ciao a presto a presto